Io credo che l'obiettivo sia spendere bene i soldi, fare cose che servono, che siano utili alla crescita della nazione perché la crescita della nazione corrisponde alla crescita della ricchezza, alla possibilità di ripagare i debiti legati anche all'erogazione del PNRR. Questo è l'obiettivo di un governo sano che ragiona per far crescere l'Italia per aiutare l'Europa anche a spendere bene le risorse che reciprocamente tra nazioni mettiamo a disposizione.